Il tuo nome? Giacomo Petrocelli Giacomo di dove sei? Di Bari, Bari Allora Giacomo, ti faccio un gioco Io ti faccio delle domande Tu devi rispondere senza dire né sì né no Ok Sei pronto? Sì Hai perso Hai già perso Rifacciamola Sei pronto? Sei pronto a giocare? Sì Hai perso di nuovo Rifacciamola Facciamo quello che ho fatto per ragazzo Quello mi piace Vuoi trovare l'anima gemella? Sì sì Andiamo a trovare l'anima gemella Dove? Ok Ci penso io Il tuo nome? Liliana Liliana? Sì Liliana Allora C'è Giacomo Che ci ha chiesto Giacomo che si presenta Giacomo ha detto A me piace Liliana Vorrei conoscerla Vogliamo conoscere Giacomo? No, non mi interessa Così di primo impatto non mi interessa Vabbè presentati e basta Grazie Liliana Fai un appello alle telecamere A Giacomo cerca la fidanzata Io penso che le ragazze sono da tappeto all'osso Le ragazze bisogna trattarli bene Ogni giorno regalare un fiore Le donne sono la bella della vita Allora Sono su Facebook Giacomo Petro Acelli Come ti chiami su Facebook? Giacomo Petro Acelli Allora donne Se volete ogni giorno un fiore Contattate Giacomo su Facebook Petro Acelli Petro Acelli Ok? Grazie Ciao